Sono Edoardo Pernigo, oggi voglio parlarvi del nuovo percorso formativo offerto dall'ITS Last, consulente alla vendita automotiva. Come scuola superiore ho frequentato un istituto tecnico con indirizzo costruzione del mezzo terrestre e ho voluto proseguire nel mio settore, anche se vi assicuro che per studiare e lavorare nell'ambiente automotivo l'unica cosa che conta è la passione per i motori. Quello che mi ha spinto a iscrivermi a un percorso ITS dopo la scuola superiore è stata la mia ambizione di lavorare nel mondo automotiva relazionandomi con il cliente. Il mio obiettivo è stato raggiunto perché adesso sto facendo uno stage con mansioni di venditore presso una prestigiosa concessionaria di Verona. Il percorso consulente alla vendita automotive può essere una buonissima occasione di amplificare e approfondire le proprie conoscenze per poter poi svolgere una mansione simile alla mia. Gli studenti che si iscriveranno al corso consulente alla vendita automotive acquisiranno le conoscenze necessarie per operare in un settore in continua evoluzione. Si acquisiranno infatti conoscenze relative alla tecnica del veicolo e all'interno delle cose. Si acquisiranno conoscenze anche in materia assicurativa, normativa e finanziaria per poi spaziare anche la gestione del cliente, fidelizzandolo e approfondendo poi la relazione. Gli sbocchi occupazionali che può offrire il corso consulente alla vendita automotive sono il venditore di vetture nuove e usate, di veicoli commerciali leggeri e pesanti, ma anche il venditore di servizi di mobilità evoluta come il leasing e il noleggio a lungo termine. Potrà anche operare in società che aiutano e supportano i concessionali a migliorare le proprie performance.